Si è bentornati in questo nuovissimo video su Brawl Stars raga Oggi faremo delle partitine su Brawl Stars per inaugurare questo mio primo video su questo canale Mettiamoci Colt, voglio fare una bella partita con lui, anche se ce l'ho di grado alto Vabbè dai, mettiamo pronto Bene raga, allora, siamo pronti per fare una bella partita in sopravvivenza in singolo Mi sa che era meglio se mettevo due Però vabbè, non importa Cerchiamo di fare una partita decente raga Su, su Raga vi chiedo per questo video che è il mio primo video di lasciare un bel video Like E di condividere con tutti i vostri amici Qua ci sta una bella stupida pipi Una stupida pipi che non mi sa che muore male O forse no, non muore Non muore male, forse qua ci muori male io Ci muoro Pipi Allora, fatti chiare amicizia l'uno Vabbè, intanto la gente sta morendo, ottimo Dai, dai, pipi, 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 pipi Pipi, 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 pipi bella b b b b b b b ah raga comunque questo video lo dividerò in due parti ok lo dividerò in due parti così non mi stancherete cioè così il video non dura troppo a lungo intanto raga siamo arrivati quinti quindi ottimo perché così non perdiamo coppia ma anzi ne guadagniamo due siamo morti si mannaggia vabbè dai quinti più due per un buon risultato facciamo gioca ancora e niente andiamo avanti ok qua ci sta un bellissimo barrel allora ti posso fare un po male raga non so perché ma per un secondo mi sembrava che mi laggasse anche se non mi può laggare perché sto proprio accanto alla mia connessione quindi è veramente abbastanza difficile che mi possa laggare in alto dici sta una bella taraturchina che penso che non mi killerà e volevi 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 quanto rossi e ma non puoi killarmi no vabbè no vabbè no way no way no way no way no way il primo non ti conviene killarmi perché io ho un getto di di un colpo veramente forte allora quella tale è morta si è morta grande il primo dai morita vicenda scegli muori scegli come sprecare la ulti in un modo magnifico ragazzi tutto veramente sembra ce l'ho sprecata veramente male quel da ulti veramente male comunque dai voglio arrivare quarto non quinto vi prego ok ciao ciao allora siamo quinti dai dai dobbiamo arrivare quarti dobbiamo arrivare minimo non possiamo sempre fa più 2 più 2 più 2 più 2 più 2 no riga no riga dai non si può sì quarti dai dai ora terzi terzi ce la possiamo fare dai 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 questo pocio muore muore male no no mannaggia vabbè gg gg scegli gg ha campionato un po' però bisognava la map la safe si sta restringendo e gg scegli gg va bene 5 ottimo 464 coppie gioca ancora ottimo allora va bene allora dai 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 no stecca stecca non ci può rubare la cassa noi abbiamo più vita di te infatti ti ho laserato tu non mi hai laserato papà però c'è mi ha fatto un po' male però non mi ha laserato quello stecca è morto è morto è morto no 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 scappa non stecca non anche tutti contro di me ma perché 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 rega no dai ok quello stecca vorrebbe venire vorrebbe ma non può e che io scappo di qua no no ti prego non devo non devo perdere queste coppie no stecca no no ste stecca no e volevi 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 questo questo mi fa male raga non so se che faccio più male io però mi preoccupa molto mi preoccupa molto la situazione in cui sto dai 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 un altro deve morire un tizio uno raga mi chiedo uno ecco ragazzi quindi non l'avevo visto e vai ora un altro quarti ti prego non sempre quinti sempre più due quarti un altro tizio e basta dai un tizio mica su ci vogliono cent'anni se se no quello stecca deve morire male quanti potenziamenti a che questo primo è morto male raga però della ulti di corte proprio non la so usare proprio non la so usare per niente devo voglio arrivare terzo è morto sto il primo è morto male ma la povero il primo che subisce tutte queste pene aia ovvio ma stecca questo qua fa un sacco male e un laser 50 50 th più mi sono chiedato due che umma mia rega 10.100 precise rega 10.100 precise vabbè andiamo avanti e raga non so se avete visto nel look e nel doppio gettoni che non ha tanto senso cioè non ha proprio tanto senso non ha proprio un senso perché se doveva dare anche quando non anche quando avevi esaurito i gettoni invece non ti dà non ha senso cioè secondo me non ha proprio un tanto senso a questo punto ti compravi a questo punto c'è ti compravi una doppia gettoni con 50 gm ed è molto meglio e che questo qua c'è la super se l'ha detto sarà un evento incredibile a questo non è per niente un bel evento cioè se metteva c'è il che ti dava gettoni anche quando li avevi esauriti era troppo bello in base all'esperienza che avevi guadagnato con la partita era giusto veramente giusto invece no vabbè rega che dobbiamo fa dai dai quel frank dai almeno le volte una volta dai che pillole eugenio genio muori male se ti ho fatto abbastanza male dai devo dare un colpo a quel frank niente mi sono avvicinato troppo lo sapevo sbagliato si vabbè ma cent'anni ti paralizza frank ma che rega cos'è boys cos'è vabbè dai due copie c'era già anche se moda 10.100 10.098 vabbè dai chi sei dai colte dai colte moda se in questa partita cioè il mio obiettivo è portare colte al grado 20 ma non fa niente dai in questa partita cioè se mo arrivo cioè se non arrivo sotto l'ottavo cambio vuole allora lì ci sta una bella penny che muore male non ci credo non ci credo mai non ci credo mai raga dai su su dai 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 no questa penny non mi può killare non mi può non può la penny killarmi da così lontano dai allora rega dai ma perché non muore nessuno cioè raga nessuno muore non capisco perché nessuno cioè due persone sono morte nell'arco di più di un minuto è veramente incredibile veramente esagerato veramente dai sì dai 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 altri due altri due un altro un altro vi prego un altro un altro così arrivo a 10.100 no penny penny no proprio nei più nei momenti più brutti ok è fortuna questa bibi scappata di qua la giusta d'anamica devo morire da male d'anamica non può rivivere non può vivere ancora no no rega no no si aveva tutti conto di me ma cos'è ragazza però che palle quante coppa perso te social da questo comunque è il mio il mio club ok se volete entrare ok la scrittura scritto solo amici 5b alba di razza non capisco bene il senso io sono il socio perché c'è questo clan è un clan di un amico si chiama seppi look che suo cugino l'ha creato che un pesca il presidente che a 1095 coppie niente non capisco alba di artica non so che città sia niente sono scema non sapere la geografia ho fatto anche la rima rega vabbè dai diciamo ora dai usiamo si possiamo usare usiamo la nostra jesse che è un broder che io adoro prima non l'adoravo tanto ma da circa un mesetto e mezzo l'anno c'è da un mesetto circa l'anno perché allora no un mesetto fa avevo già sì al grado al grado 12 13 e albolo al più grado basso al grado più basso che avevo e poi è diventato uno dei più alti 10 no 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 Grazie.